Ricomincia la settimana con Oroscopando, da questa mattina lo potete trovare su www.spettacolandotv.it e da questa sera su Teletibur sul canale 119 del Digitale Teresse da lunedì alla domenica alle ore 23.30 e anche streaming su www.teletibur.it. Ovviamente l'appuntamento è sempre lunedì alle 7.25 con un giorno da 7.30 con un giorno da ascoltare condotto da Arianna Caramanti e Misa Urbano dove io ho il mio piccolo spazio, il gioco delle coppie e vi racconterò come va la settimana per tutti i segni zedicali e con chi andrete d'accordo ovviamente. Se perdete l'occasione di ascoltarmi lunedì potete sempre ascoltarmi o riascoltarmi se volete sul podcast che trovate sul profilo di Paola Astri spettacolando, spettacolando i radio. Detto questo ovviamente cominciamo con l'oroscopo che va dal 13 al 19 dicembre. Siamo quasi vicini all'oroscopo dell'anno che poi vi farò e mi raccomando non perdetelo perché ovviamente quelli sono consigli per tutti i mesi dell'anno. Segno della riete è un segno di fuoco, non è una settimana particolarmente inebriante per voi. La routine è una costante in questi giorni e voi vi lasciate andate alla noia quotidiana. Anche l'amore risente della vostra sbogliatezza e della poca voglia di cambiare le cose. L'inizio della settimana può darvi uno sprint maggiore. Approfittatene per invertire il vostro amore a due, magari con il sesso. 4S, parola d'ordine up and down. Toro, segno di terra, finalmente sereni e pronti a coccolare il vostro amore e a farvi perdonare dopo tante mancanze. Avrete feeling nel rapporto a due e non vi risparmierete nelle arti amatorie. Il sesso sarà una costante e il vostro partner dovrà dirvi basta per fermare la vostra carica erotica. Il lavoro riprende dal 15 dicembre. 4, 5S, parola d'ordine, amore senza fine. Gemelli, segno d'aria, sarete vendicativi questa settimana. Il partner ve ne ha fatta una delle sue e non volete certo dargliela vinta. Anzi cercherete di fargliela pagare a dovere in più riprese. Non vi va di essere preso in giro e tantomeno di vivere accanto ad una persona che può tradire la vostra fiducia. Non sarà una settimana facile ma voi vi farete rispettare sotto tutti i punti di vista. 3S, parola d'ordine e vendicativi. Cancro, segno d'acqua, siete distaccati in questa settimana. Niente vi va bene e fate l'antipatico o l'antipatica con tutti. Siete insofferenti nei riguardi della famiglia, del padre, insomma non sopportate nessuno. Dovete aspettare che il momento passi e ritornare ad essere più conciliante con la vita. Certo non sarà facile convivere con il vostro manumore. 3S, parola d'ordine e indisponenti. Leone, segno di fuoco è un periodo dove le novità sono all'ordine del giorno e vi predispongono ad essere ottimisti con tutte le cose della vostra vita. Avrete buone chance nel lavoro già dal 14 dicembre, cose inaspettate che non credevate potessero succedere. Inoltre sarete impulsivi ma anche pronti a ponderare qualsiasi cosa che la vita vi offrirà. In amore potrete anche ricominciare con qualcun altro se il rapporto in essere non vi dà più emozioni. 5S, parola d'ordine e fortunati. Vergine, segno di terra, siete svogliati, non avete voglia di fare niente, volete stare fuori dalla pazza folla e mettervi a casa tranquilli. L'ozio è padre dei vizi e questa massima vi scalza al pennello. Questa è una settimana dove non collaborerete per niente, neanche con il vostro amore, che vorrebbe le vostre attenzioni, ma siete troppo svogliati per impegnarvi. 3S, parola d'ordine, oziosi. Bilancia, segno d'aria, sarete concreti, finalmente abbandonerete il mood dell'incoscienza, del pressappochismo. Ora è il momento di agire e di rendervi indispensabili sul lavoro e anche in amore. L'amore sarà importante per voi, lascerete che l'altro sia libero di amarvi senza doversi scontrare con la vostra diffidenza. Liberi finalmente dal vostro carattere un po' diciamo un divago. 5S, parola d'ordine e concreti. Scorpione, segno d'acqua, siete dei provocatori innati e questo lo fate spesso e volentieri con il vostro amore, per dare più pepe al rapporto e poi finire a rotolarsi nel letto dando sfogo alle vostre arti amatorie. Peccato però che il partner potrebbe non gradire più queste vostre esternazioni e sentirsi sotto pressione dalle continue schermaglie amorose, fatte per gioco. Il risultato è che l'altra metà potrebbe andarsene sbattendo la porta. Provate a non mettere a dura prova il rapporto. 3S, parola d'ordine e non esagerate. Sagittario, segno di fuoco, siete al top, l'energia è una costante in questa settimana. Il Sagittario è così pronto a dire la sua senza avere più paura di risultare scontroso e inadeguato. Non volete arrendervi e questo vi porterà ad andare avanti senza remore, con la consapevolezza che riuscirete in tutto quello che farete. Amore senza remore. 5S, parola d'ordine e top. Capricorno, segno di terra, siete pronti a tutto per amore, ma volete vedere la luce in un rapporto che ancora non vi ha dato quello che speravate. Metterete alle strette il partner con una convivenza o con un matrimonio? Speriamo solo che dall'altra parte non ci sia qualcuno che promette e non mantiene. Comunque sia, fate bene a progettare. 4S, parola d'ordine e progetti. Acquario, segno di terra, il lavoro è al top. Riuscirete a portare avanti dei progetti e avrete il plauso dei vostri capi. L'amore è un po' nervosetto in questa settimana, forse perché avete poco tempo da dedicare sentimenti presi dalla professione. Attenti a non essere troppo latitanti con il partner, perché c'è la possibilità che possa trovare qualcun altro con cui passare il tempo. 4S, parola d'ordine e nervosetti. Pesci, segno d'acqua, l'amore è flop. Non riuscite proprio a entrare in sintonia con il partner, probabilmente perché non crede più in voi. Siete troppo farfalloni, spesso e volentieri rimanete invischiati in qualche storia e chi è con voi da tempo si accorge dei vostri innamoramenti facili. Fate ammenda delle vostre colpe e cercate di rivedere i vostri comportamenti, chiedendo scusa a tutti quelli che avete ingannato. 3S, parola d'ordine e ingannevoli. Oroscopando finisce qui, ripeto l'oroscopo che va dal 13 al 19 dicembre, da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it, da questa sera su Teletibur, canale 119 del Digitale Terrestre, da lunedì alla domenica alle ore 23.30 e in streaming su www.teletibur.it. Detto questo vi do l'appuntamento con Radio Cusano Campus ogni lunedì alle 7.30 in un giorno di ascoltare, un giorno di ascoltare con Arianna Caramanti e Misa Urbani e dove io ovviamente ho il mio piccolo spazio in cui vi racconterò come va la settimana per tutte le coppie in essere, per tutti i segni zodiacali e oltretutto se perdete l'occasione di ascoltarmi potete sentirmi sul podcast che verrà pubblicato sul profilo di Paola Aspi, spettacolando i radio già da lunedì pomeriggio, quindi potete ascoltarlo. Grazie, vi auguro un buon oroscopando, buona settimana a tutti, anche a me ovviamente, essendo del segno del leone dovrei avere una buona settimana. Dico dovrei perché ci credo ma non troppo. Ciao!